Musica Buonasera e bentrovati a Poggio a Caiano Informa inizia una nuova stagione nella nostra rubrica quindicinale dedicata al comune di Poggio a Caiano ed è ripartito anche per quest'anno scolastico il Pedibus, il servizio che consente agli studenti di andare e tornare da scuola a piedi. Guardate! Anche quest'anno il comune di Poggio a Caiano offre gratuitamente alle famiglie della scuola primaria Lorenzo il Magnifico, il servizio Pedibus che consente agli studenti di poter andare e tornare da scuola a piedi accompagnati dagli educatori della cooperativa sociale a Lambicchi. Un modo nuovo per i bambini di riappropriarsi del territorio urbano senza tralasciare il fatto che il tragitto casa-scuola a piedi è anche uno strumento di educazione stradale e per l'amministrazione una risposta alla necessità sempre più urgente di tutelare l'ambiente riducendo l'inquinamento. Per attivarlo le famiglie possono andare sulla pagina web del sito del comune dedicata ai servizi scolastici. Il Pedibus è un progetto che la nostra amministrazione dà molti anni, che è completamente gratuito per i bambini che frequentano la scuola primaria Lorenzo il Magnifico. Cosa consiste? La mattina gli operatori della cooperativa Lambicchi prendono i bambini con un vero e proprio bus alle varie fermate e li portano a scuola. Il pomeriggio vengono riprese e dalla scuola ritornano a piedi alla propria casa. Ci crediamo molto in questo servizio proprio perché risponde a tante cose. Prima di tutto la tutela dell'ambiente è un comportamento, uno stile di vita che favorisce e per quanto riguarda la qualità dell'aria. Quindi pensate a meno inquinamento le macchine che non portano il bambino a scuola e nello stesso tempo il bambino stesso riesce a appropriarsi della propria città perché conosce i vari sentieri che lo portano a scuola e conosce anche i bambini. Quindi è molto importante per quanto riguarda la socialità di questi bambini. conoscono bambini con classi di età diversa e quindi principalmente in questi anni è gestata la pandemia, diventa importante proprio per la loro autonomia e per il loro benessere psicofisico. Ripartito grazie all'impegno finanziario del comune anche il servizio di pre e post scuola. Durante la pandemia sembrava che si dovesse rivoluzionare anche i tempi delle città e quindi doveva essere tutto rivisto. Questo però non è avvenuto. Per cui quando i genitori sono tornati al lavoro i tempi della scuola non combaciavano perfettamente con l'entrata al lavoro dei genitori. Per cui è stato molto richiesto da loro proprio perché non potevano conciliare le due cose. Per cui con il pre e post scuola siamo riusciti a garantirlo sia alla primaria, ai bambini della primaria, che lì non ci sono delle restrizioni particolari per cui possono essere unite anche i genitori e i bambini che vengono da classi diverse, sia anche all'infanzia. E lì era il problema principale. Infatti gli altri comuni, molti comuni non l'hanno proprio attivato perché lì bisogna garantire le famose bolle perché i bambini dell'infanzia non portano la mascherina. Per cui i costi sono molto lievitati. Ma con lo sforzo che abbiamo, io devo ringraziare tutta la giunta che è venuta incontro a questa esigenza espressa da tante famiglie, siamo riusciti a garantire questo servizio. Promozione del territorio, arrivano le vetrofanie e i cavalieri con la web app per conoscere tutti i servizi e gli eventi dei comuni aderenti. Una web app per far conoscere il territorio. È quello su cui è appuntato il comune di Poggio a Caiano, che ha presentato il risultato della collaborazione con la start-up Qualcosa da fare. Per accedere alla web app basterà inquadrare un QR code presente su vetrofanie e cavalieri senza dovre scaricare alcuna applicazione. Abbiamo ultimato la distribuzione del QR code delle vetrofanie e dei cavalieri nelle strutture ricettive, negli esercizi commerciali del territorio. Chiaramente chi ne fosse sprovvisto è pregato di contattare il comune oppure la Proloco che chiaramente gli sarà portato il materiale. Devo dire che gli esercenti che non erano ancora presenti nella piattaforma hanno aderito all'appello che il comune ha fatto loro, cioè quello di iscriversi alla piattaforma e lo hanno fatto in gran numero, quindi ha dimostrazione anche che direi che l'offerta insomma del prodotto turistico e non solo, insomma è stata ben recepita dal territorio ma chiaramente ora bisogna anche arricchirlo ulteriormente degli eventi ad esempio. Quindi l'appello è anche alle associazioni di volontariato che settimanalmente insomma propongono le loro iniziative a scrivere a redazione chiocciolacalcosadaffare.it affinché le loro iniziative possano essere promosse al meglio. Paggio Accaiano insieme ad altri comuni del Montalbano e oltre sta cercando di creare una sua identità turistica basandosi sul motto il rinascimento fuori porta. Fu infatti questo e non il Chianti, il territorio prediletto dai medici. Noi di Qualcosa da Affare abbiamo appunto l'obiettivo di raccontare a turisti e cittadini tutto quello che il territorio deve offrire in termini di luoghi da vedere, arte, cultura, itinerari a piedi, sapori, shopping e naturalmente gli eventi. Tutto questo attraverso la nostra web app che oltre ad accontentare turisti e cittadini aiuta anche i commercianti a vendersi meglio attraverso una visibilità che ottengono sul territorio ma anche in tutti i comuni limiti che hanno aderito a Qualcosa da Affare. Siamo infatti ad oggi in quattro province e 17 comuni. Qualcosa da Affare, come dicevo, è una web app, quindi non deve essere scaricata, non occupa spazio nel telefono e funziona anche dove il segnale internet è debole e soprattutto su dispositivi come il mio, ormai obsoleti che non chiedono altro di essere sostituiti. Forniamo informazioni 24 ore su 24, anche in lingua inglese, come avere un ufficio informazioni sempre disponibile e che non ha bisogno di andare in ferie. Pensiamo noi ad aggiornare le schede, così da aiutare i commercianti a non perdere tempo, anzi, informazioni e soprattutto a quelli che non hanno la manualità per fare queste cose, quindi anche loro possono entrare a far parte di Qualcosa da Affare, mentre il comune lo aiutiamo a promuoversi sul territorio attraverso le vetrofonie cavalieri e anche su siti istituzionali dove viene messo il link a Qualcosa da Affare, così da avere una visibilità a 360 gradi sul territorio e online. Negozi, bar e ristoranti possono apparire sulla web app semplicemente contattando Qualcosa da Affare, che si occuperà di creare e aggiornare una scheda ad hoc. Consegnato l'attestato di civica a Benemerenza all'atleta poggese plurimedagliata Vittoria Guazzini. Il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Pugelli, insieme a tutta la giunta comunale, ha conferito l'attestato di civica a Benemerenza a Vittoria Guazzini, pluripremiata campionessa europea e mondiale di ciclismo. Il sindaco ha espresso all'atleta poggese classe 2000 tutta la stima e anche la vicinanza dell'intera cittadinanza, soprattutto in questo momento di ripresa dall'infortunio che Guazzini si è procurata durante la prima edizione femminile della Parigi Roubaix. Sicuramente questa è stata una grande soddisfazione, molto bello essere riconosciuta proprio nel mio paese, mi riempie d'orgoglio e cercherò anche nei prossimi anni di portare in alto il nome di Poggio a Caiano. Voglio infatti ringraziare la giunta e il sindaco per questo riconoscimento e spero di ripagare la loro fiducia anche prossimamente. Quest'anno è stata sicuramente un'annata positiva, la partecipazione alle Olimpiadi sicuramente era un sogno che avevo fin da bambina e sono contenta di essere riuscita a raggiungerlo. Poi sicuramente l'obiettivo sarà anche quello di vincere una medaglia, ma per quello ci sono altri tre anni davanti a me. Sì, anche l'infortunio sicuramente non era stato preventivato, però è vero che in una gara come la Parigi Roubaix ci può stare tutto. Però insomma il sindaco ha trovato il modo di tirarmi sul morale con questo riconoscimento e quindi io ne sono molto grata. Era giusto da parte della nostra comunità riconoscere a Vittoria alla fine di quest'anno questo omaggio. I cittadini benemeriti della nostra città sono stati nel corso dei secoli quelli che hanno portato il nome di Foggio in giro per il mondo, da Filippo Mazzei a Arden Gosofici all'amico che ci ha recentemente lasciato Giorgio Gatti. In questo caso Vittoria porta il nome di Foggio in giro per il mondo grazie allo sport. Una giovane campionessa e quindi questa benemerenza ha anche un significato particolare per il futuro perché il nostro auguro è che questi successi continuino e continuino ad essere tanti. E un riconoscimento che arriva in un momento molto particolare per Vittoria, che è proprio quella della caduta, per la quale abbiamo voluto dare questo riconoscimento proprio anche con questo significato, ovvero quello di rassicurarla sul fatto che i campioni e la stoffa dei campioni si vedono proprio nei momenti più difficili. Noi siamo sicuri che poi Giaccaiano e Vittoria continueranno a vincere grazie alle sue gambe, le due ruote e a portare in alto il nome di Foggio, il nome del ciclismo e il nome di Vittoria. Una grande campionessa, da oggi anche cittadina benemerita. Il vice sindaco Giacomo Mari ha menzionato i diversi e prestigiosi successi raggiunti fino ad ora da Vittoria, mentre l'assessore allo sport Fabiola Ganucci ha consegnato l'attestato di benemerenza. Abbiamo dato questo riconoscimento, la benemerenza, a Vittoria Guazzini perché è stata veramente brava la nostra concittadina che porta il nome di Foggio a Cagiano in tutto il mondo e quindi vuole essere un po' un augurio anche per la sua guarigione vista la caduta che ha avuto nell'ultima gara e che ritorni presto in pista perché noi la seguiamo volentieri. Che tipo di attestato è quello che le avete conferito? È un attestato che ha un regolamento proprio che si dà alle persone che sono emerse per i propri meriti, lei per quello che riguarda i meriti sportivi. È stato un riconoscimento della cittadinanza di Poggio oltre alle feste che sono state organizzate e che saranno organizzate perché il 28 di novembre ci sarà un'altra scena e quindi volevamo come amministrazione un attestato che rimanesse un po' a ricordo della vittoria per lei, per l'affetto che la città gli vuole dimostrare. Per questa puntata è tutto, Poggio a Cagiano in forma torna tra due settimane, sempre di giovedì alle ore 20.05. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per aver guardato il video